Sorgeranno due nuovi asili nido in provincia di Agrigento. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto dell'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali Caterina Chinici che approva le graduatorie dei progetti per la realizzazione di nuovi asili nido. Gli asili sorgeranno a Bivone e a Favara. Finanziato anche l'adeguamento e la ristrutturazione degli asili nido di Menfi, Santa Margherita Belice, Aragona, Grotte, Cammarata, Licata, Sambuca di Sicilia e Castrofilippo. Tra quelle aziendali ha ottenuto finanziamento il micronido del consorzio assi di Agrigento. Il totale dei finanziamenti ammonta circa 70 milioni di euro. Le risorse sono nazionali alle quali bisogna aggiungere il cofinanziamento regionale circa 40 milioni che sarà disponibile non appena concluso l'iter di definizione dell'utilizzo delle risorse del FAS. Oltre a un finanziamento per i lavori la regione contribuirà alle spese di gestione di attività per i primi tre anni. Si tratta di un programma di interventi, spiega l'assessore Chinici, che consentirà ai comuni di aumentare e migliorare notevolmente l'offerta di servizi per la prima infanzia. Grazie alle risorse a disposizione riteniamo di poter finanziare tutti gli interventi inseriti in gradatoria e di utilizzare le ulteriori somme per nuovi bandi.